qualcosa mi dice che siamo giunti alla conclusione di un ciclo oggi parliamo dell'ultimo aspetto della paura se vi ricordate faccio un po di riepilogo diciamo così abbiamo visto che la paura l'oscura signora dimora nella profondità della nostra anima e in qualche modo domina le nostre emozioni i nostri comportamenti se non ce ne rendiamo conto e si manifesta potremmo dire sotto mentite spoglie cioè si manifesta in diversi modi che sono non visti e quindi non può essere affrontata abbiamo visto che si presenta come senso di insicurezza e minaccia per la propria sopravvivenza si manifesta come dolore si manifesta come bisogno di potenza di potere e rabbia si manifesta come risentimento si manifesta come mancata espressione di sé frustrazione si manifesta come giudizio tutti questi comportamenti creano come un mondo una nebbia che nasconde la vera responsabile protagonista di questi nostri comportamenti disfunzionali l'ultimo che vediamo è l'identificazione qualche cosa di così diffuso noi siamo costantemente identificati se non ce ne rendiamo conto identificato con il ruolo di che ne so di medico di madre di figlio di insegnante identificati con le nostre emozioni sono arrabbiato o paura identificati con le nostre qualità sono forte coraggioso oppure determinato identificati con le nostre credenze sono cristiano dio esiste dio non esiste sono a favore o contrario a per esempio la cosiddetta dittatura sanitaria sono di destra o di sinistra siamo costantemente ogni volta che usiamo il verbo essere in qualche modo rispetto a noi stessi rispetto a qualcun altro ci stiamo identificando con qualche cosa ma sotto 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 la braccia c'è la paura la paura di essere noi stessi di fronte a noi stessi vuoti e svegli nudi essenziali la paura di onorare la nostra vera natura pienamente senza nessuna certezza nessuna sicurezza senza nessuna etichetto scatola che ci dia una tra virgolette fa sull'identità un falso io tant'è che i saggi di ogni tempo ci parlano dell'essere dell'essenza pensiamo al famoso io sono colui che è cristiano colui che è chi sei colui che è oppure l'am so vedico am so io sono non io sono questo quello quell'altro io sono quindi quando noi ci rendiamo conto che prima di tutto noi siamo l'essere in psicologia potremmo dire siamo di sé siamo coloro che sono cogliamo l'opportunità per lasciare le nostre identificazioni alle quali però rimaniamo aggrappati se non scorgiamo la paura che c'è sotto la paura di essere voci e svegli aperti di fronte al mondo a dire eccomi qua io sono questo quindi vi lascio con questa sfida io sono questo io sono questo